Lo stato di coscienza attuale si rischia con la furia dei veri, con le illusioni della realtà, l'io sono i pensieri di abenzione, i desideri, devi trovare le tue risposte che aspettano solo di essere riconosciute. Cos'ha un essere umano di diverso da me? Devo comprendere la mia divinità come tutto, lo sento. Gli esseri umani non appartengono a te. Vuoi dire che la purezza nella vita è la libertà dal peccato? Oltre il suono, la percezione, la vita stessa, sono uguali a quella parte di anime che si sono riconciliate prima di te. Post-mortem! 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 Post-mortem!